80 denunce per il picnic no green pass in piazza treni ricci garantisce il freccia bianca per roma marche sempre più connesse banda ultralarga in altri 100 comuni segnalazioni a pantano edifici abbandonati da 30 anni sport dopo più di un mese torna in campo little service buona sera oggi è martedì 8 febbraio e questo è il telegiornale ufficiale di rossini tv nel consueto appuntamento delle 19 40 in replica poi alle 20 e 40 si è rivelato un banchetto dal conto salato quello organizzato domenica pomeriggio in piazza del popolo a pesaro in occasione di una manifestazione di protesta contro l'obbligo di green pass sono infatti in arrivo denunce e multe dopo il banchetto sta per arrivare il conto non risulterà infatti impunito il picnic con circa 120 persone che domenica pomeriggio hanno allegramente pasteggiato sopra la fontana di piazza del popolo in un flash mob di protesta che ha radunato attraverso un tam tam sui social decine di persone riluttanti ai limiti imposti dal green pass un aperitivo immortalato da queste immagini postate sulla pagina facebook del movimento io apro una manifestazione provocatoria senza green pass non ci si può sedere al bar o ristorante e allora l'incontro conviviale lo si porta all'aperto e nel cuore della città con tanto di bivacco sulla fontana cittadina questo è quello che hanno pensato di fare i manifestanti ma l'ha pensata diversamente la digos che seppur costretta a dirottare il proprio presidio domenicale sulle concomitanti partite di vispeso revuel al momento di sparicchiare la festa è comunque riuscita a identificare parte dei partecipanti e attraverso la videosorveglianza sta perfezionando anche le individuazioni che porteranno a 80 denunce nomi che saranno inviati alla procura della repubblica per manifestazione vietata un reato che prevede multe fino a 400 euro così come sono in arrivo sanzioni per assembramento e mancato uso di mascherine per quella che si sta per rivelare una festa dal conto salatissimo buone notizie per quanto riguarda la nostra regione Marche perché calano contagi e ricoveri appunto in regione con l'incidenza che si abbassa da due settimane arrivando oggi a quota 1513 casi ogni 100.000 abitanti nel dettaglio sono 3152 nuovi contagi nella regione Marche di cui 553 in provincia di Pesaro Urbino calano di 11 unità i ricoveri rispetto a ieri arrivando a 366 pazienti nelle Marche 50 dei quali in terapia intensiva sempre alta però purtroppo la cifra dei decessi anche oggi se ne contano 9 di età compresa fra 62 e 102 anni questa mattina in rassegna stampa vi abbiamo dato notizia della soppressione da aprile del treno diretto Frecciabianca Ravenna-Roma che transita per Pesaro da pochi istanti in redazione è arrivata una comunicazione del sindaco Matteo Ricci che ha invece rassicurato sul mantenimento della corsa nel periodo primaverile dal primo aprile Pesaro non rischia di perdere uno dei più comodi e strategici collegamenti ferroviari con la capitale a fugare quei dubbi fomentati questa mattina da un articolo apparso sul resto del Carlino è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci il primo cittadino attraverso un post sui propri canali social ha infatti assicurato che la fermata delle ore 7 e 16 del Frecciabianca Ravenna-Roma verrà mantenuta anche nel periodo primaverile e con essa verrà conservato l'unico treno che collega quotidianamente e in maniera diretta il nord dell'Adriatico con la capitale Ricci a colloquio telefonico con alcuni vertici di ferrovia italiane ha preso che l'equivoco nasce da un disguido informatico che si sta cercando di risolvere e che a breve consentirà il regolare ripristino del servizio già perché ad oggi il treno diretto Pesaro-Roma delle ore 7 e 16 prevede biglietti regolarmente acquistabili fino al 31 marzo per poi far sparire la possibilità d'acquisto dal primo di aprile in avanti. Da qui è nata la deflagrazione di un'ipotesi di soppressione non aiutata dal silenzio di comunicazioni ufficiali che è stata poi sufficiente a mobilitare l'immediata attenzione delle forze politiche. Il centrodestra in consiglio regionale aveva infatti già inoltrato formale richiesta a Trenitalia di non procedere alla soppressione con una missiva firmata dai consiglieri Nicola Baiocchi, Giacomo Rossi, Luca Serfilippi e Giorgio Cancellieri. Allo stesso modo il consigliere regionale del PD Biancani aveva preannunciato una eventuale manifestazione di protesta in caso di conferma di soppressione. E se rischiano di peggiorare i collegamenti ferroviari nella regione Marche migliora invece la digitalizzazione della regione grazie all'accordo ottenuto oggi che completerà l'operazione di connessione di banda ultralarga per 100 comuni delle aree interne che ne erano sprovvisti. Diciamo intanto che quando ci siamo insediati non c'era nessun comune vendibile nonostante che il contratto per la banda ultralarga che è stato finanziato con i fondi PORP risaliva al 2016. Quindi almeno tre anni di ritardi reali sui cantieri. Dal metà del 2020, cioè dall'ottobre che ci siamo insediati, sono stati oggi resi vendibili 73 comuni con un impulso che ha messo questa amministrazione. Abbiamo fatto diverse riunioni con Open Fiber, alcune anche dure, però nell'interesse dei cittadini perché la connessione a casa in banda ultralarga è il vero divario sociale. L'abbiamo visto con la DAD, con le riunioni, avere la connessione specialmente nelle aree bianche, cioè nelle aree di montagna, nelle aree più a dispersione, dove c'è più fatica a essere connessi e a poter vivere la dimensione della grande città. Noi abbiamo insistito molto che Open Fiber completasse tutti i cantieri. Oggi, dopo anche una riunione importante che c'è stata con l'amministratore delegato che è venuto da qui ad Ancona, abbiamo concluso che gli ultimi 100 comuni che mancano per coprire tutte le aree bianche verranno realizzati entro i prossimi 18 mesi. Su questo poi si innesteranno gli altri bandi che sono previsti all'interno del PNRR per la digitalizzazione delle aree grigie, cosiddette, in cui le gare sono state appena bandite dal Ministero dell'Innovazione e il risultato si attende all'incirca per il mese di giugno. Quindi nel mese di giugno si saprà effettivamente poi come si andranno a realizzare anche la copertura delle aree grigie. Le marche hanno una situazione che è piuttosto buona rispetto alla media nazionale, sicuramente sulle aree bianche da un punto di vista della realizzazione. Sicuramente è una regione piccola, sia del territorio che da un punto di vista della densità abitativa, quindi del numero di comuni. Tutto il programma sulle aree bianche riguarda circa 220 comuni. Quindi è uno sforzo importante, ma è uno sforzo dove già traguardiamo la realizzazione del piano nell'ambito dei prossimi 18 mesi. Giovedì 10 febbraio il Comune di Pesaro spegnerà per mezz'ora l'illuminazione di un luogo simbolo della città per sensibilizzare contro la crisi energetica e il caro bollette. Nello specifico ad essere spenti a partire dalle 20 saranno le luci di Piazza del Popolo e del Palazzo del Comune. E' arrivato lo spazio consueto dedicato alle vostre segnalazioni. Vi ringraziamo come sempre per farci partecipi delle cose che non funzionano nel nostro territorio grazie alla messaggistica di WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione. In questo caso, nel prossimo servizio curato da Edoardo Orazzi, vediamo la segnalazione nel quartiere pesarese di Pantano dove ci sono a quanto pare degli edifici abbandonati addirittura dagli anni 80. Vediamo. Le telecamere di Rossini TV tornano oggi ad accendersi perché un telespettatore ci ha segnalato una problematica che è presente da tanto tempo in via Pantano. Tre strutture in una fase avanzata di degrado sono presenti da tanto tempo. Una struttura è di proprietà dell'Asur, una di marche multiservizi e l'altra è di proprietà di un privato. Sentiamo cosa ci ha detto i nostri microfoni questo telespettatore. Il problema è molto semplice. In questa zona io lo conosco bene perché per più di vent'anni ho fatto il portalettere e quindi ho visto crescere il degrado. Ho visto come sono partiti, ho visto crescere il degrado e nessuno ha pensato di poterlo ridurre. Per queste cose sono stati fatti 5-6 articoli. Dal 2014 quasi tutti gli anni è stato fatto qualche cosa. Finalmente dopo questi articoli per un momento sono venuti i carabinieri della forestale, hanno sequestrato l'area e hanno fatto tarna pulita dentro. Ma il degrado rimane continuamente. rimane. Dal di fuori si vedono tutti questi travi eroginiti. Allora noi, volevo aggiungere che i tre locali dovrebbero essere uno privato, molto malandato, poi questo dell'ospedale e l'altro sembra che sia ancora un'area di marche multiservizi. Allora noi, sento sempre parlare, a peso abbiamo l'assessore alla bellezza. Forse lui è già venuto su questa zona e avrà capito che in questa zona la bellezza è questa, di tenere l'area così senza fare niente, senza tenere in ordine. Insisto che questa roba qui al più presto venga messa in ordine. Una parte riguarda il quartiere di Moraglia, un'altra parte riguarda il quartiere di Santa Veneranda dove io sono consigliere e continuerò a farlo per il bene dei cittadini. Non ho mai fatto interessi personali e quindi è necessario che chi governa questa città vada meno sui televisori, in televisione e venga a vedere queste cose che le mostri al pubblico. Una situazione di degrado che è presente da quanto tempo, da quanti anni? Io ho smesso di fare il portalettere da questa zona nell'84 e penso che Erasai scendeva in degrado in quel momento lì, pensi un po' a quanto è passata, dall'84 ad oggi sono passati 40 anni. È una situazione che non può ancora essere presente soprattutto per la pericolosità che può provocare. Il pericolo delle cose che cadono forse sulla testa ma il pericolo del degrado, dell'inquinamento che portano queste strutture tutte arrugginite, in molti casi può darsi che c'è anche l'amianto e via così. Comunque qui per fare una cosa bene va abbattuta queste mura tutti intorno, abbattute quei ferri arrugginiti sopra, va tolto tutto e lasciato un prato, perché vicino a questo qui ci sono i giochi dei bambini della parrocchia e quindi dobbiamo tener conto anche di queste cose qui. Quanto ancora devono vivere in questa maniera? Quanti bambini devono nascere ancora e trovare davanti queste strutture? Ed ora ci spostiamo a Fano dove l'assessore regionale Stefano Aguzzi, già sindaco di Fano, attraverso un videomessaggio ha annunciato importanti lavori di rafforzamento degli argini del fiume Metauro. Erano attesi da molti anni degli interventi nella parte di fiume Metauro compreso tra l'autostrada e la foce, perché lì un po' di anni fa c'era stata una alluvione, una rottura degli argini. Di conseguenza lo scorso febbraio ero venuto a Fano a presentare diciamo così uno stanziamento vocato a dei lavori di consolidamento di quella parte di fiume Metauro. Avevo detto che entro l'anno avremmo approvato il progetto definitivo e portato avanti la gara d'appalto. Questo tempo è stato mantenuto proprio l'altro giorno, abbiamo giudicato i lavori ad una ditta di treia, ditta Francucci, che ha fatto anche un ribasso d'asta consistente. Di conseguenza i lavori sono stati già affidati e dentro il mese di febbraio si insederà il cantiere. Si provvederà alla ripulitura dell'alveo e del fiume Metauro per tutto il corso dell'autostrada fino alla foccia, il consolidamento degli argini particolarmente nella parte sud. L'assessore comunale di Pesaro Riccardo Pozzi ha annunciato l'intercettazione di 160 mila euro di contributi ministeriali per il restyling delle balaustre attorno alla palla di pomodoro. L'intervento riguarderà tutti i 350 metri di parapetti bianchi del lungomare Nazario Sauro, preservandoli dall'azione erosiva della salsedine e delle intemperie climatiche. A causa di lavori di manutenzione ai serbatoi di acqua potabile a Casteldimezzo e Trebbia Antico, Marche Multiservizi informa che potrebbero esserci interruzioni del servizio idrico. Giovedì 10 febbraio dalle 8.30 alle 14 nelle seguenti località strada del Boncio, strada Rive di Casteldimezzo, località Babucce, strada panoramica dal chilometro 15 al chilometro 17, strada per Fiorenzuola. Interruzioni d'acqua possibili anche venerdì 11 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 14 in strada di Ghetto Lime, strada dei Colli, via del Cigno, strada del cimitero di Trebbia Antico, via Andres e via Trebbia Antico. E parliamo ora del secondo appuntamento di Sinfonica 3.0 al Teatro della Fortuna di Fano che è previsto per venerdì 11 febbraio alle ore 21 e che vedrà salire sul podio dell'Orchestra Sinfonica Rossini la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, ormai notissima al grande pubblico che è tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale, un concerto con cui si omaggeranno Rossini con la Scala di Seta e il signor Bruschino e Beethoven con la settima fila del grande compositore tedesco. E in chiusura di telegiornale parliamo di sport perché dopo più di un mese torna in campo Little Service nella Serie A di Calcio a 5 e lo farà domani alle 15 a Ciampino contro la Niene. Un match che potrete seguire in diretta proprio sugli schermi di Rossini TV. Intanto però il presidente Lorenzo Pizza ai nostri microfoni ci racconta questo particolare momento. Dopo lunga inattività ci saranno ben sei partite in 17 giorni. Il campionato di calcio a 5 riparte e Little Service torna di nuovo in campo dopo più di un mese dalla vittoria della Supercoppa del 4 gennaio. Biancorossi che saranno impegnati mercoledì a Daniene nel recupero della 14esima giornata e che poi li vedrà affrontare un mese di febbraio ricco di impegni. È stato uno stop abbastanza importante per noi perché al di là di tutto che già diciamo gli stop sono tra virgolette pericolosi per mantenere il solito ritmo a livello sportivo, a livello agonistico, a livello mentale. Il nostro è stato acuito ancora di più perché noi abbiamo avuto tanti giocatori che sono dovuti andare fuori con le proprie nazionali e con questi impegni nazionali abbiamo fuori i quattro argentini, fuori Salas, fuori i due italiani quindi di Oliver e Fortini e quindi adesso diciamo piano piano a scaglioni stanno rientrando e quindi diciamo sarà un periodo per noi non semplice perché comunque è stato un periodo non semplice in quanto la squadra si è dovuta allenare a ranghi ridotti con pochi giocatori. Poi noi mercoledì abbiamo subito il recupero a Roma contro la Niene. Un periodo complicato però è questo diciamo tra virgolette lo scotto che devono pagare le squadre che hanno tanti giocatori in nazionale come l'Ital Service. Dovrà metterci del suo Fulvio Colini che comunque è maestro in questo per cercare di mantenere alta la concentrazione dei giocatori che ha avuto a disposizione e preparare subito mentalmente a resettare tutto e a ripartire da zero i giocatori che rientreranno dall'Argentina e dal Paraguay. Noi dobbiamo stare molto attenti e quindi tenere altissima concentrazione proprio perché non dobbiamo perdere la distanza da Padova e quindi il contatto dal Petalarca Padova e però dobbiamo stare anche attenti alle squadre che sono a pochi punti da noi in classifica. Quindi dobbiamo assolutamente blindare il secondo posto e cercare di arrivare primi in fase regular season perché poi sarà importantissimo per la griglia di partenza playoff. Però dobbiamo stare molto attenti, molto svegli perché a ridosso di noi ci sono squadre molto ben strutturate che possono soffiarci il secondo posto e anche il primo. Parlo di Napoli, parlo della CMB Vatera e parlo di Avellino quindi sono squadre molto pericolose. Quindi è importantissimo arrivare primi per noi perché assolutamente noi abbiamo sempre puntato molto sulla regular season in quanto poi ci dà la possibilità anche alle playoff di giocare l'eventuale bella, l'eventuale partita decisiva qui a Pesaro. Come hai detto tu febbraio sarà un mese di fuoco perché mi pare che da qui al 27 febbraio dobbiamo giocare 6 o 7 partite quindi una media di una partita ogni 2 o 3 giorni. Sarà veramente un mese complicatissimo e dopo febbraio avremo già, sarà una cartina torna sole per vedere come possiamo posizionarci la fine del giron della regular season. E allora davvero in bocca al lupo all'Ital Service mi raccomando domani alle 15 seguite questa importante partita su Rossini TV e questa sera in prima serata seguite la prima puntata di questo bellissimo documentario dedicato alla seconda guerra mondiale con testimonianze ai racconti originali, in questo caso riguardanti Fano, una volta a Fan, Ceren e Campanì. Questo documentario è ideato da Gastone Mazzanti, la prima puntata questa sera alle 21.20. E poi domani appunto l'Ital Service, vedete la squadra sarà a Ciampino contro la Miene e alle ore 15 potete seguire la diretta sia sul canale 633 sia sulla nostra pagina Facebook. E giovedì 10 febbraio celebriamo il giorno del ricordo grazie alla collaborazione del Comune di Pesaro saremo in diretta alle 9.30 con questa parte musicale a cura del Conservatorio Rossini alle 9.40 invece ci saranno i saluti istituzionali per poi passare di nuovo a un momento a cura del Conservatorio e alle 10.10 ci sarà un intervento della professoressa Adriana Ivanov in esclusiva su Rossini TV. Mentre venerdì, il giorno dopo, all'11 febbraio alle 18.30, ringraziamo il Vescovo di Pesaro per questa possibilità di trasmettere in diretta la celebrazione della giornata del malato in diretta proprio dal Duomo di Pesaro alle 18.30. Segnatevi allora tutti questi appuntamenti importanti su Rossini TV e ricordatevi anche che domani l'informazione torna con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20. Buona serata.